Ciao ragazzi sono Bluefire, siamo nella BluefireTV e sta per iniziare una partita di Rubik's Siamo nel server mc.skyblock e nella sezione minigames Ora io aspetterò che ci siano tutti i partecipanti, che siano almeno 8 ma saranno anche di più probabilmente E che finisca il gioco precedente così partiremo e ci vediamo subito Ragazzi è Squid, quello di Spongebob, incredibile Guardatelo, vabbè abbiamo un pedo bear, vabbè ci vediamo in game, questo è Squid comunque Eccoci è iniziato, credo almeno, vediamo in che team siamo, siamo nel team a Orange Team Bluefire, ci siamo, bella raga Con chi sono? Con questi due nabbi, io piglio la terra Ok No, no, combinato Muovetevi Grandi, sì collegate, uno è morto no, non ci credo Quello che aveva preso tutto magari Boh, misteri Benvenuti in questa nuova, in questa nuova miniserie Qui l'ho trovato Sono in un pessimo posto Uh, dei piedi No, dammi un piede, oi Oi MT, grosso Ehi, oi E non c'è un cavolo Siamo stati velocissimi Siamo in un grande Là in alto anche dobbiamo andare Ma posso rompere tipo tutte le cesto E fare una pila di cesto con cui salire là in alto Boh Misteri Ce la farò ragazzi Penso che si faccia così allora Uno di ferro Uno di ferro solo Uno stick, amico Ce l'hai uno stick Uno stick, amico Amico, sei un grande Ma stick Bravo, hai capito tutto Gli chiudiamo anche questa Guardate Ha ha Ole Ci siamo armati Abbiamo preso tutto il ferro Questo è fantastico Ti faccio anche la crafting Guarda, se non la fai già tu Sì, la fai tu Ok Good, MT Yeah Ok Ok Ci pensiamo Fatti una spada Uela Ci siamo Amity Andiamo a menarli Mi prendo solo dei blocchi da costruzione E qui feci il fail più epico Andiamo, dai Let's go Let's go E i blu morire Non è che si fanno gli archi Tipo Ok, 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 ok Ci siamo Meniamoli Meniamoli Bravo Io controllo gli altri lati Prima tu Prima tu Prima tu Ok, perfetto No, no, no Andati in mezzo Vabbè, tanto sei bloccato Amico Sei fregato È tutto chiuso Dove vuoi scappare? Ah Ci hai droppato un osso Vai, di qua Di qua Vai, di qua Ok, eh Ragazzi Contro i verdi ora Di qua è tutto chiuso, sì Io controllo che sia tutto a posto Quelli là stanno dormendo Amico, ma lassù? Cosa c'è lassù? Boh, ti faccio io un po' di strada Spero solo che non arrivino con degli archi Tipo Sennò siamo fregati Ok Di là stanno facendo Mmm, sono furbi di là Dove è finito il mio amico? Compare, dove sei? Ah, è andato di là Hai del cibo, amico? Mmm Ah, è andato a prendere la chest Bravo Ma è fortissimo sto ragazzo Sei fortissimo, amico Voglio farti i complimenti Vieni qua Anzi, andiamo in mezzo Ma anche io ho la spadona Io me ne vado Ti sei sbagliato di grosso Oh, sei fregato Torniamo e andiamo a ammazzare Andiamo a ammazzarlo Ragazzi, ma quanto è divertente Rubix Tutti sti cubi poi Ok Dovrebbe esserci un altro Però a questo punto Andiamo di sorprenderlo Di qua c'è qualcuno Ah, sì, di là Sono ancora incamperati Scusa, amico Ti stavo per colpire Bravo, MT Dai Ci siamo Vado io stavolta Vado io Attacca bomba Non c'è nessuno Nessuno Non ci avete lasciato niente Oh, stavo laggando Meno male che non sono caduto Ok E ora di qua? Cosa c'è? Non ci sarà niente Beh, andiamo a ammazzare gli ultimi Dai Ah, lui è già andato Ma quanto sei forte, amico Quanto sei forte? MT Devo assolutamente leggere il tuo nome Non puoi scappare Non posso morire così Comunque abbiamo vinto come team Che nabbo che sono Abbiamo vinto Uh, quasi Lo faremo un'altra volta Non ancora Comunque C'è scritto Chi ha vinto Rubix Ah, ok Niente Beh, hanno vinto loro E ci vediamo Alla prossima partita Allora, da Bluefire è tutto Lasciate un mi piace Un messaggio Se vi piace la modalità Rubix Ditemi Farò più partite E ci vediamo Alla prossima Bye bye Bye